Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad Altrimenti. Merendiamo la televisione degli imprenditori arrabbiati, arrabbiatissimi. E oggi ci occupiamo insieme di capire come diventare ricchi. Quindi, no, questo video è assolutamente farlocco, soprattutto la card è bruttissima, perché mi sembra che abbiamo scritto una roba tipo, ecco come ho fatto i soldi. Quindi sapete proprio quelle card da fuffari clamorosi, no? E soprattutto quando si parla di soldi, di cose così, a me viene, trattati in questa maniera, viene l'orticaria. Però in realtà voglio mettere insieme con voi una serie di concetti per portarvi i contenuti giusti per mettervi sulla strada corretta. Sulla strada corretta, in particolare, io parlo agli imprenditori o a persone che stanno facendo impresa, o professionisti, o persone che comunque hanno una partita IVA o qualcuno che vuole aprirla magari, senza fare tutta una serie di errori, senza fare tutta una serie di cattate, eccetera, eccetera. Allora, qual è, ragazzi, il... Come si fanno i soldi? Quindi, allora, fare i soldi, ragazzi, in maniera ipersintetica, ok? Giusto per capirsi di che cosa stiamo parlando senza far inalberare le persone. I soldi sono semplicemente... Non è che dobbiamo per forza stare legati tutta la vita alla saggezza cattocomunista, il cristianesimo, i soldi sono lo sterco, il demonio, tutte queste cose qua. I soldi sono semplicemente un indicatore nel business di risultato. Tutto lì, ok? Cioè, il saldo banca è la medaglia, chiamiamolo così, che noi abbiamo al valore. Quindi, quando uno fa una gara di qualunque cosa, a livello sportivo, non so, un contest musicale, vince la coppa, vince la targhetta, vince la medaglia, ecco, noi, gli imprenditori fanno le gare, perché fai le gare con il mercato, con la concorrenza, eccetera, eccetera, e la coppa che noi vinciamo, la medaglia che noi vinciamo, normalmente dovrebbe essere il saldo banca aziendale, diciamolo così, ok? Con... e la pagella dovrebbero essere i tre documenti di bilancio, ok? Quindi, il bilancio aziendale si compone dei nostri tre documenti, ok? Conto economico, cioè stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, la maggior parte di voi, soprattutto chi è insemplificata, non ce li ha, non sa nemmeno di che cosa sto parlando, se ce li ha, li ha ma sono fatti sbagliati, non ha comunque il rendiconto finanziario, ma non è una lezione su questo, oggi non ne parliamo, diciamo, però io dovrei avere gli strumenti, i tre documenti di bilancio, che è la pagella generale, poi il voto finale è il saldo banca. Quindi cosa significa? Significa che io, nell'arco di un decennio, quindi diamoci un arco temporale corretto, gli imprenditori, diciamo, partendo da zero, in un arco di dieci anni, voi dovreste essere ricchi, ricchi, cioè voi dovete diventare, io vi do dieci anni per diventare ricchi. Parlare di questo c'è anche il libro bellissimo che ne abbiamo pubblicato, che è Autostrada per la ricchezza, un bel libro, se non ce l'avete, prendetelo, studiatelo, è molto carino, spiega queste meccaniche in maniera intelligente. Ma che cosa significa? Significa che io, partendo da zero, quindi senza particolari fondi, senza particolari conoscenze, senza particolari contatti, senza essere nato ricco, con tutte queste cose qua, partendo più o meno da zero, in dieci anni dovrei riuscire a diventare ricco, ricco economicamente, quindi significa che devo essere patrimonializzato, quindi devo avere un po' di patrimonio, e devo avere anche un po' di liquidità. Quindi è inutile che qualcuno di voi, magari, è apparentemente ricco, perché ha a patrimonio qualche casa, qualche catapecchia, ereditata dai nonni, quindi che se le mette insieme, le fa valutare teoricamente, hanno un valore, quindi a patrimonio, ma poi non sono liquidi, quindi non valgo niente, e poi magari il conto corrente in banca è in rosso, ok? E quindi abbiamo tutta una serie di problemi. mi serve un conto corrente, bello pieno, ok? E anche un po' di patrimonializzazione, questo è il concetto, devo avere questi soldini. Quindi, dieci anni, perché vi dico dieci anni? Dieci anni è un tempo corretto, che elimina le scuse, e vi dà tutto il tempo, di fare quello che dovete fare, quindi io sono l'ultima persona che vi spinge a diventa ricco facile, diventa ricco velocemente, fai questa cosa, che diventi ricco. No, facendo impresa può, anzi, devi diventare ricco, l'obiettivo è diventare ricco, e se non nasci ricco, non è colpa tua, se quando parti a fare impresa, io non sono nato ricco, quando ho cominciato a fare impresa, non ero ricco, dopo dieci anni, sono ricco, ok? Se non siete ricchi, dopo dieci anni, ragazzi, è colpa vostra. Quando dico questa parola colpa, non è che vi dovete sentirti anna coltellata, mi dovete permettere di spiegare, cioè significa che ci sono delle cose, ci sono delle competenze che a voi mancano. Se volete diventare ricchi, quelle competenze le dovete sviluppare, punto, perché non le avete. Adesso le vediamo, le vediamo insieme, ok? Cerco di mettervi un po' le cose in ordine. Allora, per diventare ricco, innanzitutto, ragazzi, vi serve un business scalabile. Che cosa significa scalabile se noi lo leggiamo dal punto di vista di manualistica universitaria? La definizione, adesso la semplifico un po', ok? Però giusto per capire, un business scalabile significa che io, in maniera piuttosto semplice, riesco a approvvigionarmi, vendere, consegnare prodotti o servizi, o prodotti e servizi a seconda di quello che vende la mia azienda, e il break even non mi insegue, cioè per crescere in termini di fatturato, utile, eccetera, eccetera, non ho i costi fissi che mi inseguono e mi mangiano tutto quello che faccio, perché se no è inutile e sto semplicemente espandendo il circolante a rischio, che è il capitale di rischio, perché sto muovendo una marea di soldi, a me non rimane niente e mi va tutto via in costi di struttura, costi fissi, eccetera, eccetera, quindi in maniera al momento quantomeno non serve, cioè è vera, non ho nulla da contestare a questa definizione che in luce è corretta, è assolutamente corretta, ma in realtà il vero punto è che il piccolo imprenditore ha un problema a monte di questa definizione per diventare ricco del business scalabile, e cioè, cosa significa per un piccolo imprenditore creare un business scalabile, perché un conto è io ragazzi sto facendo il manager in una grande azienda strutturata, un conto è l'azienda è mia, io sono un piccolo imprenditore ed è tutto mio, ok? Ora, qual è il primo compito di un imprenditore qualunque? Il primo compito di un imprenditore qualunque, in qualunque settore, smettetela di, ma io sono architetto, io sono artigianale, smettetela prima di cominciare, ok? Chiunque abbia una partita IVA ha come primo compito quello di lavorare per eliminare dall'azienda uno per uno, uno alla volta, in maniera realistica, sapendo quello che sta facendo, non a cazzo di cane, non correndo, non lanciandosi, non distruggendo cose, ok? Però al compito di uno per uno eliminare tutti quei colli, quei colli, come si parla, perché ho detto colli? non sarebbe una roba reggiana, coi colli di bottiglia che derivano da questa roba, la posso fare solo io. Quindi, se voi, all'inizio, adesso io non sono scemo, ok? Perché nasce una famiglia povera, ho fatto l'azienda, ogni azienda è partita solo con me, quindi so perfettamente quello di cui sto parlando, non è che ho letto le cose in un libro, ok? Vi sto dicendo come funziona, perché le ho fatte prima di voi, le ho fatte fare a tante persone prima di voi. Se voi partite all'inizio, ora io non sono scemo, lo so che all'inizio voi dovete fare tutto, ok? Quindi siete in azienda, probabilmente siete qualunque cosa facciate, siete probabilmente il capo tecnico, quindi colui che è l'esperto della creazione, dell'erogazione del prodotto o del servizio che fate, quindi se non servizio, se non prodotto è uguale, quindi siete il capo masito, perché le aziende in Italia, le microaziende nascono così, voi normalmente siete quelli che devono parlare con i fornitori, perché se no vinculano, siete quelli che se non ci siete, i clienti vogliono parlare con voi, non è che sono scemo, quel commercialista deve andare a parlare voi, tutte queste cose, quindi se non ci siete voi, io mi rendo conto che la vostra giornata è già piena di mille cose da fare. Bene, in mezzo a, quindi non è che sono tonto o sono rincoglionito o vi voglio fare una lettura su teorie, bene, nella vostra agenda, in mezzo alle mille cose da fare, c'è una che dovete inserire sempre tutto il giorno, tutti i giorni, cioè che è lavorare nella rimozione uno alla volta di questi colli di bottiglia per le quali determinate cose le potete fare solo voi. Se voi non cominciate a rimuovervi dall'equazione, quindi l'imprenditore è colui che si dice in gioco tecnico, cioè lavora, cosa vuol dire? Lavora sull'azienda e non nell'azienda. Ho fatto un esempio, l'altro giorno ho scritto un posticino, mi sembra, su Facebook, poi magari l'ho ripostato sui social, dove spiegavo una cosa e ho usato l'esempio di McDonald's. un po' vigliacco non lo userò mai più perché tutta la gente è, ma il film, avete rotto il cazzo, voi The Founder ma avete rotto il cazzo, The Founder è una favoletta, ok? Cioè è vero come in tutti i film finto autobiografici, è un dramma, quindi ha verità 10%, invenzione circa 90%, ma al di là di questo, il problema è, cosa ho spiegato? Ho spiegato una cosa vera, ho spiegato che Ray Kroc quando ha, perché il primo ristorante lo ha rilevato, in realtà non lo ha creato lui e la struttura del ristorante era già esistente, perché lui l'ha comprato dai fratelli McDonald's, lui non lavorava dentro al ristorante e non aveva nemmeno l'ufficio dentro al ristorante, non aveva la sua postazione, quindi lui non era dentro al ristorante a fare i panini, non era dentro al ristorante a fare le patatine, non era dentro al ristorante a servire le bibite né a fare i milkshake, non era a fare niente di queste cose, addirittura il suo ufficio non era lì, non era lì, l'ufficio di Ray Kroc era in fondo alla strada ed era un piccolo ufficino in una palazzina fatiscente molto umile dove non si servivano i panini, non si facevano i milkshake, non si servivano le patatine fritte, non si faceva l'insalata e ho detto che cosa si produceva all'interno dell'ufficio del fondatore? Si produceva McDonald's, il lavoro dell'imprenditore è fare McDonald's, segnatevi questa cosa, il vostro lavoro come imprenditore non è creare, erogare, vendere il vostro prodotto, il vostro servizio, segnatevi, ho detto di segnarvela, il vostro lavoro come imprenditore è quello di creare l'azienda, nome del vostro brand, quindi il mio lavoro come imprenditore è quello di creare la mia azienda. Attenzione, state attenti, non è che sono scena, perché dopo c'è stata una serie di commenti da idioti che non connettono il cervello, eh ma come fai, ragazzi, le croc, dovete anche capire cosa sto dicendo, il primo ristorante l'ha comprato che già funzionava, se lui non avesse comprato il ristorante che già funzionava e quindi avesse dovuto costruire un ristorante da zero, molto probabilmente all'inizio, intanto che inseriva e formava il personale minimo che gli serviva per fare la generale la struttura, sarebbe stato un po' all'interno a friggere due patatine, a tirare due bestemmioni in ritardo e discutere col fuori, certo che avrebbe fatto quelle cose, certo che probabilmente gli sarebbe messo a banco a dare via qualche panino, certo che avrebbe girato tra i tavoli per controllare che tutto funzionava, che il dispenser dei frullati funzionava, certo che lo avrebbe fatto, però la parola chiave, porca puttana, è per un po', al inizio, no, inizio è una parola sola, non c'era la domanda, al inizio, per un po', all'inizio, esattamente, come qualunque azienda, ragazzi, nasce così, se nasce da zero, per esempio, uno mi ha scritto, no, perché a me piace più l'idea di Steve Jobs che con volte sono nati nel garage, sì, stronzo, stai dicendo la stessa cosa che pur di contestarmi, il tuo cervello non ti dà la connessione mentale di capire quel cazzo che sto dicendo, Steve Jobs, che innanzitutto non sapeva programmare un cazzo, perché sapeva programmare Pong, lì per l'Atari, quel cazzo che ha fatto, tolto quello non sapeva fare niente, quello che sapeva tecnicamente, infatti lui si è preso il socio tecnico che sapeva lavorare che era Vosnet, ma al di là di quello, finita quell'epoca lì di creare l'Apple 2 e darlo fuori, venduto il primo, Steve Jobs non ha continuato a fare il capo tecnico programmatore per l'Apple, porca di quella puttana, si è messo lì e il suo lavoro è stato creare l'Apple, non è stato mettersi in officina a fare i prodotti, ok, quindi, sì, la storia del garage è esattamente come se Ray Croc avesse dovuto partire da zero col suo ristorante, certo che ogni tanto avrebbe lavato per terra i panini, ma per un po', quindi il tuo compito è mentre all'inizio se sei a zero per un po' fai il lavoro tecnico, il tuo scopo principale è toglierti da lì, segnatevi questa cosa, cioè voi tutti i giorni, volete diventare ricchi, voi tutti i giorni andate a lavorare e una parte del vostro lavoro dovete avere l'ossessione di io mi devo togliere dal cazzo, finché siete lì voi siete il problema dell'azienda, l'imprenditore operaio, l'imprenditore capotecnico è il cazzo di problema dell'azienda, non sarete mai ricchi perché l'azienda non è scalabile, siete un cazzo di collo di bottiglia, quindi l'azienda ruota intorno a molle di lavoro che può essere gestita intorno a voi e da un'arancia per quanto voi possiate spremere questa arancia e siate bravi e fate il corso di spremitura dell'arancia e fate il corso di recupero della buccia che così spremiamo ancora più succo e i tre step segreti per la spremitura dell'arancia e fate i corsi correre sulle carbonelle per motivarsi a spremere meglio l'arancia e fate in gula chi veste amor alla fine c'è sempre una cazzo di arancia quindi sapete perché non siete ricchi? Perché avete una cazzo di arancia da spremere se volete fare la spremuta di arancia vi serve il cestone di arancia da spremere cioè significa avere una cazzo di azienda scalabile e perché non siete ricchi? Perché siete degli stronzi in mezzo ai coglioni perché? Perché non sapete fare tutte quelle cose che sono necessarie per togliervi dai coglioni però se voi non accettate questa cosa che vi dovete togliere dai coglioni non ne usciamo vivi segnatevi il mio compito il mio primo compito per diventare ricco è togliermi dai coglioni non dover più fare niente di operativo in azienda finché voi dovete gestire una o più parti operativi in azienda tecnicamente siete poveri poi ragazzi poveri per modo di dire magari guadagnate bene per modo di dire la vostra aziendina ma non avete un'azienda vera avete sempre una micro azienda una piccola aziendina quelli bravini che conosci fatturano qualche milion ma finché siete io non conosco nessuna azienda che funziona con lo stronzo lì che lavora nessuna poi magari sta andando bene stanno facendo delle cose perché da quando mi hanno conosciuto cominciano certamente a fare un po' di marketing quindi gli arrivano più clienti bravi vendono meglio quindi i dati finanziari migliorano ma io so già dove finisce il lavoro cioè finché io so che c'è lo stronzo imprenditore lì io lo guardo e lo guardo annoiato perché mi raccomando ma io devo facciamo le masse ma io voglio fare oh ti devi togliere dal cazzo prima che sei ancora lì io e te non stiamo parlando al stesso livello io sono un imprenditore e te no quindi il problema di tutto quello che io ti posso raccontare finisce nel momento in cui tu sei lo stronzo che fa girare l'azienda cioè nel senso sei il capo operario il capo tecnico che fa girare l'azienda non c'è nessuna consulenza con me che possa risolvere il problema che tu sei il capo stronzo dell'azienda se non ci sei l'azienda non funziona ve lo volete segnare quindi per favore io ho già la cosa di sei mesi per la gente che viene a fare mastermind non datemi soldi se siete lo stronzo ok e volete no se siete no ne possiamo parlare vi spiego come togliervi dei coglioni nella situazione ma se voi volete essere il capo stronzo che sta in azienda a fare il lavoro tecnico non venite a parlare con me perché io so già io posso guardare il vostro bilancio ok guardo con un minimo di controllo di gestione capisco vuoto per pieno quanta ancora capacità produttiva inespressa c'è in azienda e vi dico già dove andiamo a finire guarda sì in realtà tu sei qua anche se io ti faccio se fossi anche Gesù Cristo ok del marketing reincarnato da qui arriviamo qua perché la capacità inespressa produttiva della tua azienda arriva lì e perché perché te sei uno stronzo che non vuoi fare quello che ti dico che è capire senza rischi un pezzettino alla volta capendo di come creare le procedure selezionando le persone nella maniera corretta formandole nella maniera corretta facendo un onboarding corretto creando dei livelli in realtà micromanageriali interni eccetera eccetera come ti devi togliere dai coglioni ok quindi adesso la prima cosa è quando voi parlate con me dovete non è un'arroganza ok io oggi sono stato molto contento perché ho pubblicato un post sono stati due o tre ragazzi proprio sotto lo stesso post mi hanno scritto guarda Frank mi devo ricredere cazzo perché quando ti ho conosciuto pensavo che tu fossi uno stronzo arrogante però a forza di leggere a forza di capire ho capito che era un mio problema Diego che non volevo accettare ok non ce l'hai con me cioè ho capito questa cosa in realtà ed era un modo per volermi aiutare per portarmi a riflettere in quella direzione quindi e io gli ho detto è vero moltissima gente che sono i miei studenti anche migliori all'inizio gli stavo sul cazzo perché perché se tu sei imprenditore giustamente giustamente sei bravo e sei anche un po' orgoglioso no e un po' se non hai quello che vuoi un po' te la sei anche raccontata io per farti crescere devo demolire questo terzo pilastro che sono le cazzate che ti racconti del perché non stai facendo determinate cose e quando te le vengo a dire ti sto sui coglioni ma non è che io sono arrogante ma sono più bravo te le dico perché ci sono già passate anzi se ce la faccio e se ce l'ho fatta io ok a non essere più oggi uno mi ha scritto questa cosa oggi stavo dicendo questa cosa e uno mi ha detto ma ma tu come fai visto che non hai creato altri Frank Merenda come te come fai hai l'azienda devi esserci sempre tu a fare formazione e gli ho detto signor Mario che cazzo ti chiami probabilmente tu non sei mai venuto in azienda da me perché noi eroghiamo una media di due corsi a settimana uno minimo due in molte settimane quindi tutte le settimane noi facciamo corsi e sai quante volte io sono in azienda a tenere corsi di tutte queste volte zero nessuna esiste un mio evento adesso spiego perché esiste un mio evento all'anno normalmente si tiene a giugno nel quale chi mi vuole vedere e vuole venire a sentire le novità che io voglio portare filosoficamente strategicamente tecnicamente quest'anno parlare monograficamente in verticale di un argomento che ho approfondito nel quale tengo molto mi viene a vedere durante il mio unico grande evento all'anno tradotto quindi tornando indietro adesso in non significa che io non possa fare quando ne ho voglia anche il lavoro tecnico io adoro fare formazione adoro spiegare le cose adoro aiutare gli altri mi violento non lo faccio non è che mi piace stare al mare sì mi piace stare al mare ma non è quel punto mi violento per non essere sempre protagonista al centro di attenzione sul palco perché se no io l'azienda non l'avrei creata non è che non ci voglio essere perché perché in realtà se no non avrei potuto creare l'azienda ogni tanto mi rita una volta all'anno se non mi rompete il cazzo mi ritaglio uno spazio dove faccio un corso se lavoro un giorno all'anno un weekend all'anno va bene per dire che comunque non sto lavorando un weekend voi quanti lavora tutti i giorni io un weekend lavoro ok faccio il corso nel mentre non è che mi sto grattando i coglioni è che se io stessi tutti i giorni cioè tra montaggio e smontaggio stai lì a fare i corsi l'azienda chi cazzo la progetta cioè secondo voi noi siamo diventati la più grande azienda nel mondo della formazione perché ho avuto culo perché racconto minchiate perché c'è la fuffa nell'aria o perché c'è uno stronzo che pensa all'azienda e pensa come creare le parti e pensa come scalarla e pensa come portarla avanti e condivide la sua visione chiaramente con i manager che assumono poi le persone operative nell'aria di parti ragazzi io di mestiere faccio non è che sono in pensione se sono andato all'azienda perché io faccio l'imprenditore nello scherzo che dico che sono in pensione ma in realtà faccio come i veri imprenditori io non conosco nessuno cioè opposto che un amministratore delegato ma Bob Iger non è che sta in azienda alla Disney a strappare i biglietti del parco quando entrano o si veste a topolino ok Tim Cook non sta in linea operativa in Cina ad installare gli iPhone porca di quella puttana ecco quindi non mi sembra difficile da spiegare questa cosa quindi l'amministratore delegato o l'imprenditore l'amministratore delegato è un'azienda più grande o l'imprenditore deve fare l'amministratore delegato e o l'imprenditore non deve fare l'operaio e non deve essere quello che deve parlare con i clienti e non deve essere quello che deve parlare con i fornitori eccetera 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 quindi scalare un business significa rimuovere tutti i colli di bottiglia creati dal posso farlo solo io che sia produrre erogare il prodotto o servizio che sia parlare con i clienti gli stessi fornitori abbiamo detto mille volte ok ragazzi non ci sono segreti non ci sono segreti cioè non potete diventare ricchi finché la vostra azienda è semplicemente mi sono comprato il mio posto di lavoro e c'ho qualche assistente intorno che fa alcune cose ma io gli urlo ok ma poi voglio controllare tutto io se non ci sono io non funziona niente divento mi metto sulla strada non ci esiste nessuna bacchetta magica divento ricco invece quando la mia azienda diventa il come chiamarla il prototipo parola corretta si può essere il prototipo per replicarmi dipende da come mi devo replicare non è detto che mi debba replicare il mio modello di business magari non si replica necessariamente con altre sedi ok però mi devo allargare ad altre zone a nuovi tipi di canali distributivi lo posso fare con nuove filiali con nuove sedi a seconda oppure no ok a seconda di quello che è il mio modello di business ma devo scalare il business ragazzi come dicevo prima se amo il mio lavoro tecnico perché poi non ho chiuso la frase mi rendo conto siamo quindi adesso la chiudo se amo il mio lavoro tecnico va benissimo posso sempre continuare a farlo quando ne ho voglia o per qualche cliente speciale o per qualche occasione speciale ma non perché è necessario cioè se io non faccio l'evento all'anno che faccio per la mia azienda non cambia un cazzo ok cioè se io non faccio quello che faccio normalmente per la mia azienda non cambia niente sì ma io se fai il canale youtube fai le dirette sì e se non le faccio è uguale ero ricco già prima ok perché? perché facciamo marketing perché ci sono i video perché ci sono le dirette perché ci sono i pezzi di copia c'è tutto quello che serve ok quindi io faccio quello che io non ho un giorno dove faccio le dirette un giorno pubblico io quando c'è voglia attacco il mac e faccio una cazzo di diretta perché c'è voglia se non la facessi per la mia azienda non cambia niente non sono uno youtuber che devo produrre contenuti perché se no se non guadagno la monetina non è così ok quindi ragazzi voi potete certamente continuare a fare parte del lavoro tecnico se quando vi piace ma solo se non è necessario se non è necessario e dopo dopo che mi sono reso inutile alla mia azienda mi devo rendere inutile e chiariamoci perché la gente ascolta me e dice stronzate o cerca di copiare quello che dico io che faccio io per darsi un tono anche io come Frank no non c'è nessuna se l'unica azienda vera delegata che esiste nel mondo della formazione e business è la mia non ce ne sono altre c'è qualche cazzaro online che non so perché voi seguite eccetera eccetera dice io sono in pensione guarda è solo gente che colleziona fallimenti dopo fallimenti figure di merda su figure di merda adesso vi spiego cosa vuol dire andare in pensione tra virgolette andare in pensione significa che e quindi il business è scalato di conseguenza è delegato quando io mi tolgo dal cazzo io mi tolgo di mezzo e gli indicatori e le statistiche che dovrei avere i KPI che è l'indicatore di performance e le statistiche che mi rappresentano questo indicatore di performance che delle cose che prima facevo io sono comunque statistica in costante aumento anche senza di me quello è l'unico modo per il quale l'azienda è scalata cioè alcuni di voi mi hanno scritto io vi rispondo da terra a terra perché leggo anche le cose e mi dice io ci ho provato a scalare l'azienda ma la gente come me non lavorava e quindi l'ho dovuto licenziare sono tornato ma è impossibile la gente non capisce ma infatti è perché tu non sai come si fa non è che la gente non capisce tu non sai come si fa a scalare un'azienda non sai come si fa a delegare un compito un processo eccetera eccetera ti togli abdichi a un ruolo in realtà in primis che fossero capaci di fare quella cosa perché non sai come si fa non conosci i processi e a un certo momento ti rendi conto che quell'area crolla bene no io in tutte le aree dove mi sono tolto le cose vanno meglio vanno meglio una volta al mese facciamo un kick off che è il corso iniziale per introdurre le persone poi quando sono lì se gli piace ok comprano altri corsi servizi eccetera eccetera bene io non ci sono mai lì vengono effettuate le campagne le vendite e tutto e va benissimo senza dire abbiamo statistiche in crescita costantemente ma costantemente che è costantemente in crescita perché le persone vengono formate perché il team viene formato perché quelli che devono erogare la formazione sul palco sono formati in una determinata maniera lo staff il field staff è educato in un'altra maniera i tutor sono educati in un'altra maniera costantemente vengono formati e quindi i dati continuano a crescere perché c'è una formazione per far crescere quell'area perché io mi sono andato e detto beh ragazzi arraggiati adesso come va va no c'è un modo di fare le cose io non ci sono quindi io so esattamente come si delega un'azienda l'azienda che è più difficile non mi rompete il cazzo è più difficile di delegare dalla vostra perché è un'azienda che nasce da io che tengo un corso e quando vi dite la gente vuole me no 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 voi nessuno sa chi cazzo siete la gente vuole me a me c'è la gente che mi rompe ancora non ha capito e mi rompe il cazzo no non mi rompe il cazzo anzi vi ringrazio che me lo chiedete e lo prendo come un grandissimo gesto di apprezzamento sapete che scherzo quando dico le cose però la gente mi rompe il cazzo e costantemente mi arrivano messaggi in privato foglietti piccioni non è che la settimana prossima ci sei a classica non è che ti vieni a venditore e vincermi faresti un regalo vaffanculo no non ci sono io in aula non vengo non è il mio lavoro io faccio l'imprenditore se ti si rompe l'iphone non chiedi Tim Cook mi vieni a mettere a posto il vetro quindi a me non mi devi rompere il cazzo per chiedermi se vengo in aula poi in realtà capita che ogni tanto se vengo in sede salgo sul palco saluto dico due cazzate però rompo i coglioni perché cazzo il formatore in quel momento ha il suo slot se io salgo sul palco e gli fotto mezz'ora sì magari dico delle cose non è che dico delle cazzate però in realtà lui dovrà dirvi delle cose logicamente cronologicamente didatticamente più intelligenti e più più utili più utili di quelle che vi dico io sull'onda del voler condividere con voi un concetto magari in quel momento vi dico una novità che ho in testa delle cose che sono bellissime probabilmente è divertente avere me sul palco mi rendo conto e mi vedete scioccamente come se fossi una persona importante sono solo uno sfigato ragazzi che sono uno sfigato la gente brava che trovate è quella sul palco sono i tecnici veri e quindi in realtà rompo i coglioni ma vedi anche io non vengo non perché non vi voglio incontrare è perché rompo i coglioni non servo a niente c'è un programma didattico che non è casuale e ci sono x numero di persone di formatori che si alternano per dirvi delle cose e se io gli fotto un'ora tre quarti d'ora e ho fottuto tre quarti d'ora di programma e lui non sa come cazzo rompo i coglioni a lui rompo i coglioni a quello dello slot successivo che si trova fottuto perché? perché non abbiamo finito un discorso cioè ragazzi niente di quello che facciamo cioè io voglio che voi vi convinciate niente di quello che facciamo è fatto a caso non mi chiedete ah ma la settimana prossima non è che ci sei a quel non ci sono non è il mio lavoro ok? non è il mio lavoro non è il mio lavoro quello ok? come è il mio lavoro stare in amministrazione come è il mio lavoro stare all'evento io fa io creo il mio lavoro è creare metodo merenda non è stare sul palco per capirsi ok? e se un business che è così legato cioè ragazzi si chiama il business da formazione a un certo livello si chiama personality business cioè lo crei sul tuo personaggio no? che scherza crea questa personalità si presenta nel marketing anche sui social in un determinato modo e quindi la gente si chiama personality business vi assicuro che è più difficile non ci sono io che non ci sei te che nessuno sa che cazzo fai e te fai il gelato e quello vende le gomme e quello smonta i buchi di culo cioè ragazzi fate i bravi lo so che psicologicamente è dura da accettare ed è stata durissima per anni accettare anche per noi non è che ragazzi che io ho il cuore di ghiaccio o non provo emozioni o non mi cago adosso cioè quello che voglio cercare di trasferirvi è questa cosa qua cioè io ragazzi mi cago adosso quando vi sto dicendo delle cose che io ho fatto ok? per le quali ho fatto dei laghi di merda quando le dovevo fare la paura cazzo veramente ha fatto 90 ma le ho fatte comunque cioè ho paura e le faccio la paura mi dà quella spinta di essere ancora più cazzo paranoico di guardare ancora meglio i dati di controllare di revisionare i processi di fare il retraining ancora meglio alle persone eccetera 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 ok? qui c'è per esempio Cristiano ti ci dico come è fatto Catanzaro ha fatto Crash Cashflow quindi il dottor Catanzaro tiene il corso Crash Cashflow ok? mi dite io che cazzo devo dire il dottor Catanzaro è uno CFO Alberto Alberto è uno CFO Alberto è un esperto di numeri io non ne so non è che non ne so un cazzo cioè io conosco quelle cose che mi servono per guidare la mia azienda voglio da Alberto voglio sapere quattro dati e a me mi deve dire quei lavori lì però il problema è che per arrivare a avere quei quattro dati voi dovete fare Crash Cashflow perché se voi non ce l'avete il dottor Catanzaro il vostro commercialista non so neanche chi ha fatto il corso lo sa che diciamo la verità è che il vostro commercialista non capisce un cazzo di quello che vi deve dare anzi quando vi dite mi servono questi numeri vi guarda come se foste dei poveri stronzi io non devo rompere i coglioni quando c'è Moreno sul palco io non devo entrare a rompere i coglioni perché lui ha 200 slide ogni 25 secondi da far vedere cioè se mi metto a rompere il cazzo è un disastro è un disastro ok? cioè quando non è che io mi sono scordato come si fanno le trattative però lo dico senza senza voglia voglio stare molto attento a come lo dico perché sennò sembra che manco di rispetto cioè io ho studiato ovviamente i grandi insegnanti storici della Venita come non so Zig Ziglar Brian Tracy ok? oggi Zig Ziglar è morto ok? Brian Tracy è un signore distintissimo un anziano eccetera eccetera ok? io non mi voglio non mi sono mai voluto ridurre a Zig Ziglar è morto tipo mango cioè sul palco mentre faceva l'evento e Brian Tracy cioè se lo guardate è un vecchietto si toccasse sto scherzando sta a morire io non voglio arrivare a 90 anni perché quando io vendevo nell'Alabama le penzole lo dico con il massimo però se io li dico cioè non è roba io sono 20 anni che non tiro più su un telefono io per fare una trattativa chi può insegnarvi meglio a fare quelle cose delle persone che lo fanno per me e portano i milioni di euro tutti i mesi dentro al cassettino io li ho formati ma loro conoscono tutti i giorni i clienti perché siete voi perché li fate bestemmiare con tutte le stronzate voi siete la miglior palestra del mondo ok? io non vi supporto infatti vi parlo attraverso un monitor perché non voglio interagire con voi ma i miei tutor sono costretti a interagire con voi e assorbirsi le cazzate che gli raccontate per mezz'ora per capire oh fidati fai quel cazzo che ti diciamo perché sei messo come il culo eh no ma perché tu devi capire perché il mio caso è molto particolare perché la mia zona e perché io sono un dottore perché chi testa molto e siete così fate perdere tempo alla gente quando la soluzione dovrebbe essere io non capisco un cazzo dimmi cosa devo fare e poi valuterò ok? al massimo chiedo rimborso così guardate che così non è più difficile agire con noi ok? abbiamo le garanzie abbiamo tutte le lo sapete non c'è bisogno che ve lo dico ok? voi dovreste smettere di rompere il cazzo di tutto e chiedere scusa io sono messo così di cosa hai bisogno di sapere e poi quando ti ho detto quello che devi sapere mi devi dire cazzo devi fare perché io tempo un anno voglio aver svoltato il grosso della mia azienda in tre anni voglio essere sulla buona strada in cinque anni voglio essere diventato ricco anche se Frank ha detto in dieci così questo sarebbe il modo corretto in realtà di interagire ok ragazzi quindi non c'è nessun motivo io ho un mio grande evento all'anno lo faccio rubiana normalmente lo sapete che quest'anno facciamo cosa farebbe Walt secondo me è straordinario non dovreste mancare ma al di là di quello ok non è il mio compito fare i corsi ok quindi allora dico ragazzi non basta togliersi cioè tu devi creare quelle condizioni segnatelo tu devi creare quelle condizioni per le quali quando ti togli in realtà le statistiche continuano a salire se non riesci a farlo immediatamente non è che tutte le ciambelle vengono su non devi nemmeno cagarti addosso cioè avrai degli indicatori e devi capire quindi ti devi togliere da una cosina alla volta da una cosina alla volta perché magari quell'indicatore non cresce come dovrebbe addirittura rimane stabile addirittura potrebbe esserci una statistica anche in calo bene non è un problema perché voi il problema che vi cagate addosso siete sciocchi mi vengono da offendervi non vorrei se una statistica va in calo ragazzi non è colpa delle persone ne hanno capito siete gli stronzi voi non avete saputo insegnare bene alle persone le procedure per sostituirvi in maniera corretta non è più difficile quindi non dovete andare nel panico allora adesso torno indietro perché quando c'ero io sei uno stronzo perché il tuo cervello tra due opzioni manda sempre la risposta del cazzo io voglio sapere perché il vostro cazzo di cervello tra due opzioni quella intelligente quella stronza vi manda sempre il file quella stronza quella stronza tra le due quando vedete una situazione che non funziona e adesso mi rimetto io ma non ti devi rimettere tu devi semplicemente riformare più in maniera migliore più precisa la tua didattica non funziona la tua didattica non funziona non è vero lui che è un coglione ma sarai tu doppiamente coglione se lui è un coglione che hai provato a delegare a qualcuno del quale non hai stima non hai rispetto poi terzo ma ti ho puntato io un cannone alla testa per dirti assumi sto deficiente non è che sono scemo c'è anche della gente imbecille però l'hai assunto a te quindi se lui è imbecille per me sei imbecille per due l'hai assunto a te l'hai assunto a te non te l'ho messo io e quindi adesso te la puoi prendere con me eh vedi tu mi hai inserito uno che non fa le cose io non ho inserito nessuno te lo sei scelto tu perché io il corso dove dove si trovano la gente capace come si fa la selezione come si fanno gli annunci come si fanno i colloqui come si gestiscono le persone ce l'ho sei venuto a farlo no e allora non mi devi rompere i coglioni perché perché esistono le procedure già create anche per fare quella roba lì se tu non sei venuto a collaboratori se non sei venuto non le fai le cose a cazzo oggi ho risposto sempre tra le risposte c'è un ragazzo un signor ha detto una cosa cari porino cioè io lo capisco ci siamo capiti subito eh no perché io mi sembra che sia un dottore tra l'altro una persona distinta eh no io sì ci provo ma non è il mio non mi sento portato quindi allora ragazzi a fare questa adesso mi fate veramente incazzare cioè nel senso che siamo d'accordo è ovvio che per diventare dottore non mi ricordo se era un dentista o un chiropratico chiedo scusa siamo d'accordo che per diventare dentista devi studiare tanti anni siamo d'accordo che per diventare architetto devi studiare tanti anni siamo d'accordo che per diventare quel cazzo che volete a livello devi studiare tanti anni anche solo per imparare a suonare il pianoforte ci vogliono minimo 5 anni per diventare decente non la conservazione beh ok quindi per fare qualunque cosa ci sono insegnamenti procedure eccetera eccetera voi mi dovete spiegare perché accettate psicologicamente ce lo so perché lo accettate perché venite da una nazione dove non vi insegnano a fare impresa quindi non c'è si fanno le cose a cazzo ma voi mi dovete spiegare perché accettate che per fare cazzo l'architetto il dentista qualunque cosa voi facciate servano anni di preparazione studio e una cosa e vi chiedo scusa che oggettivamente è molto più difficile che fare impresa davvero cioè creare un'azienda dove tu non sei l'operario in mezzo sei fuori dal cazzo che è molto più difficile che fare il dentista cioè io vi voglio bene ragazzi e il dentista è uno che ha fatto medicina ha fatto la specializzazione quindi lo sto dicendo proprio per il motivo giusto è una cosa complessa è difficile io vi porto tanto rispetto e vi giuro su Dio che è molto più difficile in realtà creare uno studio dentistico che funziona fattura eccetera eccetera nel quale voi non fate il dentista è molto più difficile che fare il dentista solo che per fare il dentista siete disposti a studiare per fare l'impresa dove voi non ci lavorate dentro no dovete provare a cazzo di cane se non vi funziona al primo giro non sapendo fare niente delle cose che vi sto dicendo eh no non funziona eh no non sono portato eh no ma allora se non ci sono io non funziona no è che tu devi studiare per cinque anni per fare una roba hai studiato zero mentre per fare il dentista hai studiato per fare l'architetto e ti sarai laureato porca puttana e vale per qualunque altra cosa qualunque cosa avrai imparato l'avrai imparato andando a bottega nella media nella media ok bene poi c'è anche i lavori di merda dove non so apri un bar ti portano alla tazza e non hai imparato un cazzo e in due secondi hai perso però nella media le professioni un po' differenziabili e un po' importanti hai studiato questo per lo diventare che tu abbia studiato sul campo abbia studiato a scuola abbia fatto un mix di praticantato e scuola nella media volete diventare ricchi ragazzi ok dovete studiare cioè non c'è la patente e non c'è la scuola ok mi rendo conto ok dovete studiare come si fa in presa come si fa in presa nell'accezione che vi sto dando cioè non è come si fa in presa cioè tenere aperta l'azienda e farla funzionare con voi in mezzo non è fare impresa fare impresa è creare un'azienda nella quale all'inizio se siamo alle strette ovviamente ci sono anch'io tra gli operai tra i tecnici faccio il capo tecnico ma nel minor tempo possibile mi tolgo dal cazzo cioè farvi capire una cosa e Ray Kroc tornando a quella cosa lì lui non era non aveva l'ufficio in mezzo agli altri nel ristorante perché perché non voleva che le persone gli potessero parlare perché se tu hai problemi a friggere le patatine devi parlare con un altro non devi parlare con me se il cliente urla non deve venire a parlare con me dovete smattarci devono essere delle procedure ok bene alla Disney i manager non hanno gli uffici beh uguale io non ho l'ufficio in sede da me a meno di quando non c'è il mio ufficio c'era all'inizio perché era stato progettato ma non è più mio viene utilizzato non ce l'ho all'ufficio e sapete perché non ho l'ufficio perché se io sto in ufficio la gente mi viene a rompere il cazzo perché se tu sei in ufficio fate una prova se voi vi allontanaste dall'azienda anche solo un giorno ragazzi scusate oggi non vengo domani non vengo ragazzi pensateci voi ok la gente all'inizio dice però si sistema fate questa prova ascoltate uno stronzo vi do la prova del 9 voi provate a chiamare durante il giorno ok pronto ciao Giovanni come va d'altra parte sapete cosa vi rispondono tutto bene provate guardate che se voi chiamate in azienda in ufficio in studio nel centro esterno qualunque cosa e chiedete non ci siete chiedete come va dall'altra parte vi rispondono tutto bene posto abbiamo fatto i clienti però abbiamo risolto bene se voi nella stessa giornata fosse stati in azienda vi avrebbero vomitato addosso una marea di merda che perché voi siete lì loro non si sentivano il dovere di risolvere l'unico modo per delegare l'azienda è che vi dovete togliere dal cazzo perché se voi vi togliete dal cazzo la risposta è tutto bene finché il vostro ufficio è dentro l'azienda operativa voi non ne uscirete mai vivi da questa cosa voi dovete avere la sede da un'altra io non sono nemmeno nello stessa nazione dove sono le mie aziende normalmente ok non ci sono non ci sono ci sono non sono cioè a momenti fra un po' cambierò di continente per essere sicuro che la gente non mi rompa il cazzo eppure le mie aziende funzionano sono scalabili sono in delega hanno dei piani di management e continuano a aumentare i fattori aumentare tutti gli indici finanziari importanti costantemente senza la mia presenza in loco senza la mia presenza operativa senza il mio contributo operativo ma con il mio contributo imprenditoriale io sono Steve Jobs che pensa l'Apple non penso a fare l'iPod porca puttana non penso a fare l'Apple 2 come all'inizio beh io sono come Ray Croc penso a creare McDonald's non penso a fare le patatine e i panini io penso a fare metodo merenda non penso a fare i corsi a erogare i corsi penso i corsi magari ma non penso a erogarli ci siamo ragazzi non è difficile ok bene questo è un po' il punto quindi tornando a quello che dicevo oggi come si diventa ricchi allora ci sono cinque punti secondo me che sono fondamentali ma nascono da una riflessione che oggi stavamo facendo ma la vorrei riprendere con voi cioè in realtà io lo dicevo oggi non posso Facebook quando è che sono ho capito che avrei potuto fare qualcosa nella vita no? pur partendo non avendo una mega laurea non essendo non avendo capitali di famiglia da nessuna parte non avendo nessun appoggio nessuna conoscenza io ho lavorato tanti anni ma a un certo momento qualcosa a forza di fare il venditore a forza di girare per azienda a forza di fare piccole consulenze nelle aziende qualcosa dentro di me con l'esperienza è scattato cioè proprio io ho avuto una visione vi dico io condivido ragazzi con voi la visione che io ho avuto la visione che io ho avuto è che quella mi ha detto tu ce la farai quindi un certo momento perché se voi ci fate caso io per esempio sono tipo Ligabue cioè sono uscito tardi cioè non è che sono come oggi i ragazzini a vent'anni che escono fanno le loro comparsate sui social e io ti rendo milionario e le gente che fino a ieri prendeva il latte alla mamma e dorme in camera ancora con la mamma io ho cominciato il mio primo venditore vincente in pubblico l'ho fatto non avevo comunque 34 anni che sei un ragazzo ma nel mondo della formazione sei quasi vecchio cioè per cominciare perché? perché prima ho lavorato quindi io ci ho messo tanti anni io ho cominciato a fare le venditore avevo 19 anni non avevo ancora 20 anni avevo cominciato a fare l'agente immobiliare quindi ci ho messo 15 anni tra virgolette a capire come funzionava sapete che cosa ho capito? ho capito guardando intorno che se voglio fare il culo a una multinazionale ho dei problemi va bene probabilmente a meno che non faccia delle cose specifiche ma in generale intorno io mi trovo l'imprenditore medio italiano ve lo sapete no? cioè il vostro concorrente fa parte del 96% delle imprese italiane che sono non fanno parte delle PMI fanno parte della categoria prima cioè non fanno parte delle piccole e medie imprese sono una categoria prima che si chiama micro imprese le micro imprese sono le aziende sotto i 2 milioni di euro di fatturato e sotto i 10 dipendenti quindi il vostro competitor medio è uno che non fa neanche 2 milioni di fatturato e non ha un team 10 dipendenti non sono nemmeno una micro squadra non ci arriva questo ok bene tutta gente uno non vuole studiare il marketing non vuole capire il marketing non vuole investire in marketing quindi ho capito la ragazza ho detto cazzo se io comprendo la disciplina del marketing e mi metto a farlo quindi la lead generation lo vogliamo chiamare il fare clienti se io so fare clienti meglio di questi che non lo vogliono capire non lo vogliono fare non ci vogliono investire i soldi è difficile che io non riesca a vincere quindi questa gente non vuole capire non vuole implementare non vuole fare il marketing non vuole capire il posizionamento non vuole fare un cazzo poi due allora non ne vuole un cazzo di fare training e retraining per lui e per il suo team a vendere ragazzi qualunque attività che tu sia un venditore che tu sia un rappresentante che tu sia un agente che tu sia un consulente che tu sia un cameriere che tu sia un banconista che tu sia un assistente della poltrona sei il cazzo di venditore cioè sei la persona di ultima istanza che deve concludere il contratto il rinnovo quello che è o l'upselling o il pro selling con il cliente che hai davanti questa attività va continuata tutta la vita ok cioè tu devi imparare a vendere e poi devi fare il retraining costantemente volete diventare ricchi zio canaglia dovete imparare a vendere e dovete fare il retraining costantemente almeno una volta al mese con voi il vostro team perché sennò le statistiche rimangono piatte e vanno solo verso il basso non potete migliorare segnatevi sta roba ragazzi guardate quando voi andate meglio anche se non state studiando vendita normalmente c'è solo un motivo il vostro mercato sta crescendo il vostro mercato cresce quindi voi crescete studiare vendita brutte carampane becilli che non siete altro significa che anche quando il mercato si contrae i vostri dati continuano a crescere o quantomeno rimangono stabili e non crollano proprio perché le vostre skill cioè le vostre capacità di conversione diventano più alte quindi quando voi siete in un mercato drogato che sta crescendo tutto è chiaro che voi vendete ma non è che siete diventati più bravi a vendere è quel mercazzo di mercato che cresce studiare costantemente fare i training sulla vendita filare la lama vi serve perché in realtà il vostro mercato nel corso di decenni se voi avreste una vista un po' lunga a medio termine quantomeno farebbe così e ci sono dei momenti dove pensate non so solo agli agenti immobiliari che hanno 5 anni che il mercato gli tira 5 anni che un bancazzo e come vanno loro? vanno bene quando le case si vendono da sole e vanno di merda quando le case da sole non si vendono più quando loro in realtà dovrebbero continuare a crescere costantemente a prescindere dall'andamento dei mutui del cazzo del mercato immobiliare ma perché sono delle carampane di merda a vendere fanno schifo fanno schifo al cazzo a vendere non sanno vendere e perché non sanno vendere? perché se parli con quei coglioni degli agenti immobiliari ti dicono ma io non devo vendere niente io non sono un venditore io sono un professionista che mette in contatto no tu sei una testa di cazzo e sei pure povero e sei povero perché sei una testa di cazzo e questo vale per tutte le categorie merceologiche esistenti e quindi quando il mercato cresce cioè se voi aumentate le vendite quando aumenta il vostro mercato per motivi naturali io semplicemente perché in alcuni casi succede che il vostro competitor fallisce quindi in maniera naturale vi arriva un po' di pubblico da gente intorno va bene ma normalmente cosa serve imparare a vendere e continuare a fare i training serve a continuare a mandare in alto le statistiche sui risultati sul fatturato sugli utili sul saldo banca anche quando il mercato gira ciclo e mi viene contro ve la potete segnare questa cosa? o devo veramente bestemmiare in sette lingue diversi perché non si capisce voi mi volete fare bestemmiare io voglio fare bestemmiare e Frank bestemmierà io non ho nessun problema a bestemmiare voi mi volete fare bestemmiare quindi io mi guardo intorno non c'è nessuno che vuole fare marketing veramente in maniera seria non c'è nessuno che ha un team di vendita formato realisticamente come facciamo noi eccetera eccetera poi come imprenditore gli viene il vomito a chiedere a trovare a mettere insieme poi a guardare a comprendere due dati due numeri di merda previsionali di bilancio di controllo di gestione ok quindi cioè mi fa schifo ok perché probabilmente come me in matematica a scuola andavate male quindi appena vedete un numero vi si torcirono gli occhi e non vi viene in mente di dire la mia sopravvivenza e la mia crescita e io diventerò ricco cazzo cioè voi non potete ragazzi voi non diventerete mai ricchi ascoltate me non diventerete mai ricchi e non è l'Italia le tasse il cazzo la crisi è che voi fate schifo al cazzo con il marketing fate schifo al cazzo vendere e non capite un cazzo dei numeri di base dell'azienda se mi spiegate potete diventare ricchi cazzo solo se vi sposate una miliardaria o un miliardario al rovescio di uomini e donne o se vincete la lotteria di sicuro non con la vostra azienda e di sicuro non è perché in Italia è difficile fare business smettetela di rompere i coglioni smettetela di rompere i coglioni con le stronzate smettetela voi fate schifo al cazzo non siete ricchi perché il vostro marketing è una merda perché voi il vostro team fate schifo al cazzo a vendere e terzo non sapete un cazzo non ho della matematica delle equazioni della fisica quantistica di tre numeri di merda che dovreste tenere sotto controllo non sapete niente di queste cose niente avete un livello mediamente insufficiente quindi no ma io allora come faccio vi spiego un lavoro voglio stare un attimo sulla vendita così ci capiamo perché questa è una cosa importante che voi dovete capire perché dovete studiare la vendita allora marketing e vendita sono legate e quello che voi vendete normalmente nella vostra azienda voi o i vostri assistenti i vostri uomini eccetera eccetera se non sapete vendere e non l'avete mai studiato quindi significa che voi siete semplicemente dei gentili spiegatori gentili di prodotti o servizi che presentano quello che fate con le regole della buona educazione e della gentilezza che vi ha insegnato la mamma o il buon senso civico il buon senso civico e di interagire educatamente con un'altra persona quindi siete delle brave persone preparate tecnicamente con la buona educazione della mamma che voi dobbiate vendere gelati che voi dobbiate vendere l'impianto per i denti che voi dobbiate vendere viti che voi dobbiate vendere bulloni che voi dobbiate fare i camerieri che voi dobbiate vendere qualunque tipo di azienda abbiate se non avete studiato vendita voi avete semplicemente le armi del lessico imparato a scuola e della buona educazione che probabilmente vi ha insegnato mamma e papà li mettete insieme e quando funzionano queste cose funzionano quando se non fate marketing normalmente cosa succede che la vostra azienda magari avete le aziende che sono piccole siete poveri ma nella vostra testa la vostra azienda va benino c'è qualche clientino che arriva ogni tanto bene sapete chi è questo cliente questo cliente non è che ve lo dice ma normalmente chi arriva da voi è un autosuicidato cioè arriva da un referral informale anche se voi non glielo chiedete cioè questo si è già perché viene da voi non perché siete belli perché ha parlato con qualcuno che in maniera più o meno informale vi ha consigliato e questo si è informato è venuto lì è arrivato in un momento in cui era già maturo anche per decidere quindi ci ha pensato finché non doveva decidere e tra tante scelte che poteva fare essendo indeciso ha scelto il consiglio dell'amico del parente eccetera eccetera si presenta da voi in azienda in studio in quello che è in showroom o vi chiama questa persona è una persona suicidata al 95% che con un po' di sorriso che fate fatica ad avere con un po' di gentilezza un po' di spiegazione viene convertita in gli vendete il divano gli vendete il salotto gli vendete la cucina gli vendete i tubi gli vendete la pizza gli vendete il trattamento dimagrante gli vendete la ceretta di merda gli vendete i denti rifatti perché questa persona è arrivata a ebollizione fino a che non deve comprare già di suo e in più ha un referral che nella confusione di tutti che non fanno marketing c'è qualcuno che ha messo una buona parola per voi quindi la vostra non sapete vendere voi avete preso un suicidato e siete riusciti a non dargli un calcio nel culo si chiama così per quello la vostra azienda campa perché gli altri sono così deficienti da non fare marketing sono messi peggio di voi ok e probabilmente forse hanno anche un prodotto un servizio meno buono del vostro oppure voi semplicemente calate le braghe più di loro quindi comunque però è per questo motivo non c'è nessun motivo bello per il quale voi in realtà state campando e state sopravvivendo perché ragazzi se voi siete forti voi dovete diventare ricchi la sopravvivenza nella quale voi girate soldi per banche e fornitori e voi vi tirate via uno stipendio alla fine del mese non è fare impresa cioè se voi state facendo impresa essendo il capo tecnico per pagarvi lo stipendio e facendo girare soldi per i fornitori e le banche ecco il lavoro lì non è fare impresa esservi pagati posto di lavoro perché nessuno stronzo era disposto ad assumervi perché siete insopportabili e quindi vi siete dovuti assumere da soli la verità è questa roba che vi sto dicendo io non ci sono altre verità è brutto sono antipatico è quel cazzo che volete ma ho ragione punto quindi tornando a noi che cosa accade la prova del 9 sapete qua quando voi cominciate a fare marketing il marketing non porta questa gente qua non ve la trova ve lo dico prima così vi mettete l'anima in pace il marketing perché sono troppo pochi cioè nel senso questa gente che decanta per mesi ok o settimane prima di diciamo a meno che voi non vendiate qualcosa sull'emergenza o che si venda sull'impulso ok cioè se bucate una gomma uno come l'agente Riccardo hai bucato una gomma e devo bucare ho bucato la gomma ma la devo cambiare adesso ok se vendo scarpe ok shopping è un acquisto di impulso normalmente ok ma qualunque cosa che non sia un acquisto di impulso che va pensato e va ponderato normalmente macerano la testa delle persone per giorni per settimane per mesi o addirittura per anni gli acquisti più importanti come cambiare casa o cose del genere ok bene siamo d'accordo fino a qua il marketing quindi non vi può prendere solo la gente che è già la cremina sopra perché non ci mangiamo cioè non è quella quindi il marketing prende delle persone nella scala di una piramide fate conto che le persone sono a piramide diciamo in fondo sono delle persone che non comprerebbero mai da voi e quindi è inutile parlarci proprio non gli interessa quello che vendete se gli interessa comunque gli state sul cazzo voi poi ci sono delle persone sopra che sono quelle che non ci stanno proprio pensando sopra ancora ci sono quelle che ci stanno pensando ma non stanno pensando a voi cioè stanno valutando la cosa ma non vi conoscono eccetera eccetera ok e sopra ci sono le persone che ci stanno pensando e sono quasi pronte a decidere ma non sono legati a voi bene allora il marketing grazie lo spiego fa questa roba scende con la canna e prende queste persone da quelle che a seconda di come lo fai bene lo fai in maniera differenziata tu puoi prendere le persone che non ci stanno pensando ma non hanno niente contro di te che potrebbero avere bisogno di questa cosa normalmente questa è quella che noi chiamiamo una domanda latente quella che voi trovate che sono i clienti peggiori tra l'altro quella che voi voi fate fare le campagne su facebook su circuito meta sono tutti circuiti dove andate a prendere la domanda latente non è che non si possa fare ma è la meno buona è come il pozzo di petrolio pescando il petrolio quello sporco zozzo con le pietre comunque le prendete le trovate ok le portiamo un pochino in su le portiamo a potrebbero essere pronte a valutare ma in questo momento ancora non noi no poi prendete le persone di mezzo e le portate su e mi mettono davanti le persone ok che stanno quindi questi tre livelli tra virgolette ce ne sono cinque quelli che sono già pronti a decidere com'è che sono quelli con i quali siete abituati oggi quelli sotto li scartiamo bene abbiamo tre livelli il marketing vi porta gente da questi tre livelli bene questa gente che arriva dal marketing però non sono i suicidati del cazzo con i quali voi siete abituati a lavorare che uno a settimana ogni tanto vi contatta o entra in negozio in salone o quello che è questa gente è da convincere il marketing della portata lì della messa sulla riga di po' è un rigore ok sei da solo lì davanti c'è il portiere lo devi tirare dentro non devi farlo prendere dal portiere e non deve andare fuori devi essere almeno in grado di creare il rigore qui quando voi fate cacare o la vostra rete vendita fa cacare immediatamente la storia che arriva indietro è ma questi lead non sono voi ma questi lead non sono pronti ma questi lead sono sporchi l'unica cosa che c'è di sporco il tuo culo il tuo cervello pieno di merda perché quella gente che è arrivata lì per farti delle domande e sta perdendo tempo e sta investendo tempo è gente che si trova in questi livelli della piramide il marketing fa il suo lavoro te le mette davanti e poi c'è il tuo cazzo di lavoro che è convincerle in quel momento si scopre guarda caso la mia bella testa di cazzo che il tuo non saper vendere il tuo essere semplicemente un gentile o una gentile presentatrice spiegatrice del prodotto del servizio essere un catalogo umano che spiega la roba con la gentilezza non funziona e quindi tutti questi cazzo di lead te li fotti e se io ho un'azienda dove ho dei venditori delle assistenti alla poltrona dei banconisti dei camerieri dei rappresentanti che sono incapaci di convertire la gente che arriva del marketing io butto i soldi nel marketing sta roba non si converte io ricco non divento quindi l'azienda da me io faccio un culo così in termini di procedure affinché i miei venditori siano iper performanti iper performanti perché ogni centesimo che i miei venditori siano che non mi possono dire i clienti non sono buoni perché prendono uno schiaffo che vuol dire da un altro perché io te lo metto davanti e poi ci devi pensare tu altri non è che se voi vi rivolgete alle tuffe web agency questi vi girano la merda come fanno normalmente va bene io sto parlando del marketing fatto bene cioè se voi conosceste il marketing non vi fareste nemmeno inculare dalle web agency perché in media vi fanno cosa vi fanno? le campagne su facebook sapete perché i vostri uomini hanno ragione a dire che le campagne se non le fate con me sapete perché hanno ragione vi spiego come funziona perché le campagne che voi fate normalmente sono sul circuito meta quindi tutta la merda più in fondo che c'è quindi il marketing sulla domanda latente google non lo sapete usare non lo sapete usare google display non lo sapete fare sicuramente non lo sapete fare non lo fate non lo fate bene come insegniamo a fare noi come facciamo noi per i nostri clienti ma al di là di qui è la domanda con gente che sta cercando voglio sta roba qua nella mia zona ma a voi fa schifo perché vi siete fatti raccontare la favola dell'orso perché vi siete fatti raccontare la favola dell'orso perché siete ignoranti e il venditore della webadget si vi spiega per il culo e vi vende la campagna di uccia facebook perché costa meno te lo puoi prendere domani forse vedremo secondo voi non le so queste cose come vi prendono per il culo ma è ancora più bello voi cominciate a fare queste stronzate qua bellissime ok e sapete i lead che arrivano a voi che lead sono allora si fanno li fanno con i lead ads si chiamano cioè in pratica quello che voi passate ai vostri venditori posto che i vostri venditori normalmente sono dei coglioni non li richiamano fanno passare troppo tempo ma anche se li richiamassero si chiamano lead ads questo modo di fare le campagne che io vedo fare sempre e in pratica per scaricare una promo un pdf una cosina che loro trovano su facebook ci cliccano sopra facebook gli ruba quasi senza che loro se ne rendano conto tutti i dati di contatto e ai vostri venditori arriva il numero di telefono da richiamare e quando i vostri venditori chiamano il contatto che arriva dall'idaz e dicono salve se uno della brambani snc lei ci aveva contattato chi cazzo vi conosce chi va dato il mio numero di telefono quindi quando voi fate le campagne su facebook la risposta in media è chi cazzo vi conosce io vi denuncio chi vi ha dato il mio numero e quindi i vostri venditori dopo si introvertiscono dicono che siete dei coglioni che si fanno prendere per il culo oppure che il marketing nel vostro caso non funziona no perché noi quando facciamo le campagne innanzitutto partono da google farò un'altra cosa e portiamo le persone nell'offline e passiamo dal paccone e passiamo da una prequalificazione quindi il marketing inteso come lo facciamo noi non se fate la merda fuori da un altro parte ok quindi se io vi giro i clienti tranquilli che diventate ricchi a meno che non abbiate un coglione o una cogliona o più coglioni in serie di sessi svariati quello che vi pare a rispondere al telefono a cogliere le persone parlare ok interagire chattare questa è la regola quindi segnatevelo la gente che arriva dal marketing non potrà mai essere suicidata il marketing non ha la potenza di far arrivare la gente suicidata tranne quando facciamo delle ottime campagne c'è una campagna specifica che noi tra l'altro è la prima che attiviamo sempre sui nostri clienti che è la campagna referral la campagna referral se fatta bene porta i clienti più facili da chiudere tutti ma non possiamo campare solo con le campagne referral normalmente e quindi dovendo aprire anche le altre campagne servono i venditori che sanno vendere potete segnare questa cosa cortesemente prima che mi vengono le bestembe no perché l'altro giorno adesso la racconto ho pubblicato un articolo è fallita l'azienda si è fallita nel senso che è fallita è stata rilevata l'azienda Temachino se non mi ricordo male è quella azienda che ha quella catena di ristoranti nipo nipo brasiliani sono partiti da Milano poi mi sembra che avevano aperto delle sedi un po' in giro e sono falliti queste persone questa azienda è stata rilevata da un altro gruppo che ha rilevato i debiti chiaramente come è successo con Grom che venne rilevata per rilevare i debiti per affianare i debiti con la banca eccetera uguale e sapete quali erano i commenti io ho aperto l'articolo ovviamente sapete quali erano i commenti sotto questo articolo secondo voi la gente che cosa diceva perché questa gente è fallita ah questa gente è fallita scusate non ricordo se l'ho detto con 12 milioni di debiti 12 milioni di euro di debiti quindi questi hanno accumulato 12 milioni di euro di debiti allora i commenti del popolo che probabilmente è il commento che fareste anche voi erano tutti praticamente tutti ce l'ho lì cazzo ancora nel gruppo ma non i miei cioè nell'articolo originale sono andato guardare i commenti non quelli del mio gruppo ok nell'articolo originale i commenti sono ecco vedi in Italia non si può fare azienda perché ti ammazzano di tasse allora io devo bestemmiare che non è che la pressione fiscale d'Italia sia un problema nel quale parlare a latere ok quando poi devi prenderti i dividenti ma il problema è che un'azienda che fallisce perché ha 12 milioni di debiti di tasse non è pagata neanche una le tasse si pagano sugli utili questa gente non ha mai fatto un euro di utili quindi non ha pagato mai una lira nemmeno di tasse non so se è più difficile di così da capire ragazzi le tasse si pagano cioè tu fai utili ok e quegli utili che dopo devono essere possono essere o messi a riserva o utilizzati per ritenere i debiti o distribuiti ai soci o tra l'unico socio se la persona ok quindi me li distribuisco mi prendo i soldi si appiano alcuni debiti con gli utili si fa questa cosa qua ok bene e pago le tasse su questa cosa qua cioè su soldi in più cioè dopo che io mi sono pagato lo stipendio e ho degli utili ok con gli utili posso fare queste tre cose bene questa azienda non ha mai pagato un euro di tasse perché se non fai utili non paghi le tasse le tasse hanno a che fare con il mio portafoglio personale come imprenditore quando la mia scelta non è metterli a riserva tra virgolette ok o ripienare i debiti quindi io questi li vorrei nel mio portafoglio ma mi vengono tassati ulteriormente quindi cazzo volevo 100 mi danno 50 vaffanculo stato là vero vero è una cosa odiosa ma rimane il fatto che sono soldi in più del mio patrimonio personale ma l'azienda non ti tassano il fatturato ti tassano gli utili quindi quando io sento che voi avete dei problemi voi non avete pagato un euro di tassi cioè quando voi avete pagato in media in Italia le imprese pagano 8000 euro di tassi una roba del genere se hai di 8000 euro è per me che non vai a lavorare cioè non sai lavorare e non sai fare marketing non sai non mi interessa se vi offendete è la realtà dopo che vi siete offesi siete comunque poveri quindi è meglio se ascoltate quello che vi dico e cercate di svoltare perché se no non lo siamo più poi se volete parliamo di come pensare alla tutela del vostro gli investimenti di patrimonio personale ma sono altri argomenti ok se abbiamo il corso si chiama caccia al tesoro fiscale se volete venirlo a fare per capire come far crescere l'azienda rinvestendo in modo da utilizzare la leva della tassazione invece che darla allo Stato rinvesto in azienda perché assumo più persone faccio crescere l'azienda rinvesto in marketing eccetera eccetera e l'azienda cresce è quella leva lì cioè invece che rimanere fermi e toglierti o dare allo Stato li rimetti in azienda fino a che un giorno l'azienda fa così tanti soldi che dopo una delle tue preoccupazioni sarà quella di struttura creare una struttura fiscale vantaggiosa fino ad allora quei cazzo di soldi devono stare in azienda non devi toccare smettetela di rompere i coglioni e uno che fallisce con 12 milioni di debiti che io leggo i commenti perché in Italia ci sono troppe tasse fallito per quello capite che io poi faccio fatica a rimanere calmo a interagire con le persone perché è veramente odiosa questa ignoranza deve finire una certa perché se no non si può discutere è veramente orrenda sta roba ok bene posto che mi dispiace che l'azienda sia fallita qualcuno pensa ma non c'è ok i tre punti li abbiamo detto il quarto è che non gliene frega un cazzo quindi pensano solo a tirarsi fuori i soldi loro non gli interessa diventare un buon leader pensare alle persone pensare ai soci pensare ai collaboratori non vogliono fare questa roba qua ok quindi non trovate la gente ma la vostra azienda innanzitutto dovrebbe essere un posto dove le persone io sapete cosa voglio dire la verità diventare richiede facili io ho studiato da quando sono ragazzo ovviamente tutti i test io ho fatto tutti i test tutti i corsi del mondo giuro su Dio ok su leadership motivazione diventare il leader ok ma nella media tutte queste cose alcune cose sono stronzate clamorose qualche idea buona ovviamente cioè ho solo io le idee buone ma nella media io non sento mai la cosa più importante cioè che voi dovete progettare la vostra azienda per pagare le persone bene è più della media e con contratti regolari se non c'è questa roba dopo tutte le leadership motivazionali eccetera eccetera la gente dopo un po' si esaurisce e ti manda a fancule o accetta giustamente lavori ok offerte magari sono bravi da altre parti è normale che sia così ok quindi nelle aziende da me chiunque viene io la prima cosa che penso è fuori dal lavoro questa persona che progetto di vita perché non sono tutti imprenditori cioè non è che uno io prendo la gente che con me sono persone che vogliono fare i dipendenti ma io ho bisogno di sapere che questa persona lavorando con me può andare in banca a chiedere un finanziamento può andare in banca a chiedere un mutuo può farsi una famiglia non deve arrivare con difficoltà alla fine del mese anche togliendosi qualche sfizio cioè è così grazie da noi allora lo stipendio minimo per l'ultimo arrivato netto in busta sono 2850 euro mi ricordo adesso che con il cambio l'ultimo più sfigato che lavora con me l'ultima ragazza entrata che fa l'impiegato guadagna 3000 euro puliti in busta al cambio ha 3000 euro puliti in busta quindi guadagna più la mia impiegata ultimo livello eccetera eccetera del direttore di filiale di banca suo compagno in Italia o il suo compagno normalmente guadagna 1200 euro lei ne guadagna 3000 insieme io so che li sto aiutando a creare un futuro poi devo essere un bravo leader poi devo trattare bene le persone poi devo fare tutta una serie di cose importantissime ma se voi la gente non create l'azienda quindi creando la marginalità giusta perché muovendo i volumi giusti creando il pricing giusto per fare determinate cose per poter innanzitutto pagare bene le persone e l'unica cosa che pensate è tirarvi fuori i soldi per voi voi ricchi non sarete mai perché la gente non starà mai che non è che la gente rimane ragazzi solo per i soldi ma la media che vedo io in Italia è una merda di contratti di merda farlocchi ci sono delle cose che non possono gente che non solo in meridione ma ovunque gli danno uno stipendio e gli deve restituire la metà in contanti contratti farlocchi contratti non rinnovati all'ultimo giorno cioè delle cose di uno schifo che metà basta allora con quella roba lì ragazzi si rimane a fare il bottegaio finché campate non diventerete mai ricchi cioè si diventa ricchi con la generosità segnatemi queste cose cioè voi prima di pensare a diventare milionari dovete pensare a la gente che sta con me sta bene innanzitutto cioè quando ha finito di lavorare con quello che gli do ha una vita può permettersi delle cose a un minimo perché io se dovessi dare mille 1200 euro a una persona che lavora con me questo si fa un culo così per me la mattina e poi va a casa deve mangiare panna e cipolle ma io cioè io faccio il milionario che fa gira briga sono un pensiero cioè io non dormirei la notte si cresce nel quarto punto si cresce diventate milionari attraverso la generosità cioè far star bene le persone dovete creare l'azienda preventivando che non dovete dare il minimo sindacale contrattuale di quello che è previsto al contratto nazionale non funziona così prima ve lo mettete in testa prima avete un'azienda che cresce dovete avere i margini per pagare le persone se non avete i margini avete dei problemi di marketing avete dei problemi di vendita ok quando c'è una cosa che non funziona il problema è sempre nei vagoni precedenti come il venditore vigente qui è uguale non avete i soldi per pagare le persone e nemmeno voi stessi probabilmente il vostro marketing fa cacare fate cacare a vendere e fate quindi schifo a leggere i numeri guarda un po' che siamo sempre a quelle tre cose lì il quarto è questo il quinto punto è non ne volete mezza di mettervi in discussione togliendovi dai coglioni dall'operatività per far crescere l'azienda da imprenditore come vi sto spiegando come faccio e non da tecnica quindi quando io mi confronto con gente che non ne vuole un cazzo di marketing con gente che non ne vuole un cazzo di vendita con gente che non sa guardare non sa leggere realmente i numeri quindi li fa girare un po' col nero al 50% un po' con la cazzo di cane achitando i bilanci in grigio con il commercialista quindi sopravvive qualche anno finché può quarto sfrutta le persone tratta male non paga la gente nella maniera corretta non aiuta le persone a poter realizzare dei sogni avere un minimo di progettualità nella loro visione corretta dipendente non parlando solo degli altri di soci quinto non si vuole togliere dal cazzo ok quindi ho una persona che non ha una reale ambizione di creare veramente qualcosa di grande ma è anche contemporaneamente anche tanto stupido da non voler studiare come si affronta il mercato io quel giorno mi sono detto ma io devo avere paura di questi imbecilli questo è il messaggio che vi voglio lanciare se voi volete avere veramente cioè può essere un problema avere paura il vostro concorrente voi non avete il problema di fare la guerra con piccola voi avete un imbecille medio che non sa un cazzo di marchi non sa un cazzo di vendita non sa un cazzo di numeri sfrutta le persone e vuole stare lì in azienda guardate che oggi ho fatto la battuta è come picchiare uno che caga cioè uno messo quando io ho cominciato oggi io so e voi avete visto che tipo di azienda abbiamo creato ogni tanto vi capita vi vedo che girate online quindi vedete figure che in realtà sono della gente che sta a casa sua nella sua cameretta e fa video e racconta io sono un grande io sono un guru io sono un milionario tutti questi cazzari quando voi me li presentate hai visto io non voglio sapere nemmeno dove sta questa gente io ho da creare ho da mandare avanti un'azienda per far stare bene i miei clienti chiaramente per creare prodotti e servizi sempre più innovativi sempre più utili per farli avete visto le testimonianze che pubblichiamo costantemente i soldini che gli facciamo fare i sogni che facciamo realizzare ma soprattutto i sogni che voglio realizzare per i miei collaboratori questa gente io non guardo perché so che questa gente non sa un cazzo di queste cose questa gente non sa come si fa impresa non sa cioè sa un po' come si fa marketing sugli opportunity secret per rubare due soldi a qualche ragazzino a qualche sproveduto di voi ma poi non c'è quando deve fare azienda realmente non esiste nessuna azienda l'unica azienda è la nostra e fra un anno noi saremo ancora più grossi probabilmente del 30% e loro saranno ancora lì nella cameretta a fare i video cioè non c'è niente gente che vi racconta di essere un milionario vendendo gli infoprodottini cioè è una roba che se voi conoscesse veramente è una cosa così ridicola cioè ci sono quelle cose le facciamo anche noi come azienda ok noi abbiamo il reparto infoprodotti eccetera ed è una parte importante per l'amore di Dio importante nel nostro business ma quando devi andare ok in settimo ottavo devi muovere un'azienda in maniera diversa noi facciamo due corsi a settimana abbiamo consulenze tutte le settimane abbiamo funnel in erogazione cioè non finisce più quello che facciamo stando solo sulle nostre aziende fondamentali è l'azienda che si occupa di formazione l'agenzia marketing il SNIFO e la casa editrice cioè muoviamo così tanti clienti non anche le persone quante persone puoi parlare tu al giorno a settimana al mese l'anno cioè il problema è quello voi quando venite in sede li vedete i ragazzi che sono li vedete tutti i tutor noi abbiamo il nostro reparto vendita giusto solo il reparto vendita per capirsi è composto da adesso se me lo ricordo me l'hanno spiegato l'ultima volta perché ancora non l'ho visto perché sono delle robe io non li vedo sapete quando ho capito di avere un'azienda che funzionava quando ho cominciato a non sapere chi cazzo lavorava più per me e nemmeno conoscerli per nome che non è fai lo snob eccetera è che cominciano a lavorare magari io li incontro dopo qualche mese non so cosa fanno non so che il manager li ha assunti il manager se li ha formati è un uomo suo io faccio l'imprenditore neanche posso conoscere tutti quelli che friggono le patatine dentro a McDonald's penso che il croc conoscesse tutti quelli che lavavano l'insalata che non significa che non li rispettasse non li tutelasse non li volesse bene ma ok quello è quello che è successo a me un giorno io ho cominciato a non sapere più chi lavorava per me solo per dirvi quanto siamo quindi io vi insegno delle cose perché non le facciamo noi abbiamo scusate il livello di telemarketing abbiamo le ragazze al telemarketing che chiamano per prendere gli appuntamenti poi abbiamo un team di circolari ci chiamo circolari perché sarebbero gli account membership ci chiamo circolari per scherzare sono quelle persone che per compito vendono solo abbonamenti quindi vendono il magazine vendono il circolo gold vendono il circolo platinum vendono il circolo di den cioè la membership marketing saloon vendono le enciclopedie ok quindi hanno a che fare con le nostre membre quindi vendono gli infoprodotti partner abbiamo un gruppo di persone di ragazzi che siamo a tre mi sembra adesso che fanno due o tre milioni comunque fanno solo i circolari ok poi abbiamo i venditori a tre livelli quindi abbiamo gli junior abbiamo i medium e abbiamo i senior come tutor che vendono fino a livelli il senior è l'unico che sono anche quelli che normalmente vedete sul palco tra le altre cose quindi la mia rete vendita che si gioca col moneyball è costituita da cinque livelli per farla funzionare per scavare all'interno della delle liste per muovere le liste in maniera corretta per lavorare con il marketing i clienti nuovi i clienti vecchi i referral i clienti di serie A i clienti di serie B i clienti di serie C voi non avete manco un livello 1 quindi avete tutto da imparare c'è tutta una vita da imparare per fare le cose ok quindi quando io vi insegno le cose perché la mia azienda è così strutturata che posso permettermi di fare l'insegnante di dire guarda che te queste cose non le sai e queste cose ti condanneranno a essere messo male quindi grazie queste sono le prime cose che dovete sapere per diventare ricco poi se volete velocemente sono alcuni aspetti sui quali dovete stare attenti ve li dico allora i problemi che io ho con voi uno è che ve l'ho già detto siete in mezzo al cazzo due normalmente è che non ci sono regole all'interno dell'azienda cioè voi vi siete messi in proprio per fare quel cazzo che volete ma l'azienda funziona quando voi invece create le regole le procedure siete i primi a rispettarle ok e normalmente chi è che non rispetta le regole in azienda vostra moglie che le avete trovato un lavoro in azienda ma lei è vostra moglie fa quel cazzo che vuole la vostra compagna poi chi c'è abbiamo prima dei tecnici quelli bravi che vi tengono per le palle perché loro sanno le cose accentrano le informazioni se non ci sono loro dovete stare attenti ancora chi è che vi tiene per le palle l'amante che vi scopate sempre in azienda tiene per le palle e chi è che vi tiene per le palle quella o quello che controlla il nero e quindi vi tiene per i coglioni quindi io ho questo enorme qua io quando vengo in azienda ragazzi ho questo enorme problema cioè che dovrei cambiare delle cose e non posso perché a rompere i coglioni nel creare il marketing la vendita l'assistenza tutte queste cose qua e lavorare in una determinata maniera in mezzo al cazzo c'è vostra moglie vostro marito in mezzo al cazzo c'è l'amante in mezzo al cazzo c'è il tecnico che si mette di traverso in mezzo al cazzo c'è quello che controlla il nero e quindi non sarete mai ricchi con queste gente qua quindi una delle prime cose da fare in azienda è quando avete queste figure ci vuole un certo periodo di tempo per repurare l'azienda di queste persone vanno sistemate rimotivate o messe fuori quindi non è che io vivo sulla montagna ma tu non capisci la mia situazione particolare la so benissimo la so benissimo che ti sei messo il tuo moglie in azienda questa rompe il cazzo lo so prima di te vecchio lo so so benissimo che ti scopri la tizia in amministrazione e quindi è un casino adesso mandarla sai quante ne ho? sai quante ce ne raccontiamo con l'avvocato dei casini che fa la gente non le so i ricatti le cose che devi fare e pagarla per fare non le so il tizio che vi tiene il nero non lo so che vi ricatta certo però lo so il vostro problema sono queste robe quindi ci sono diventare ricche quelle cinque cose che vi ho detto in ottica positiva e rimuovere queste cinque cose che vi ho detto in ottica negativa a sistemarle quando voi avete sistemato queste cose e quindi sistemando queste cose vi togliete dall'equazione e cominciate a lavorare sull'azienda e non a fare l'operario il tecnico dentro l'azienda l'azienda può crescere e potete diventare liberi ricchi e fare quello che volete anche continuare a fare il lavoro con le mani se vi piace perché ve lo potete permettere ok ragazzi quindi vi piace quello che vi ho detto vi ha fatto arrabbiare vi ha aiutato a chiedervi le idee ci sono cose che non avete capito cosa ne pensate quello che vi ho detto scrivetemelo nei commenti sotto il video e noi ci vediamo alla prossima volta con nuove idee rivoluzionari per diventare ricchi grazie a tutti ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.